Benvenuti allo speciale Cifit, con noi il presidente Giuseppe Di Somma. E con lì parleremo un po' di quelle che sono le attività di cui si occupa questa associazione. Quindi iniziamo prima a spiegare il nome, facciamo capire ai telespettatori cosa significa proprio Cifit. Come prima cosa saluto tutti e ringrazio te Angela, dopo tanto tempo ci diamo del tutto, tanti anni che ci hanno a 9 e la 9 come amicizia, è un piacere stare qui con te, anche se mi emoziono un po', anzi. Grazie. Anzi, ne approfitto per dire a tutti quanti che sono un estemporaneo, quindi se prendo qualche papera non ve la prendete a male, ma sono più un tecnico che un oratore. Allora, Cifit è in effetti una cronoma inglese, Crime International Forensic Investigation Technology, che sembra molto complicato, ma in effetti è un'associazione che si interessa di tutto ciò che fa parte del mondo della criminalistica e della criminalità, volto ad aiutare le persone più deboli e i soggetti che hanno, insomma, una componente all'interno della società dove hanno bisogno di un punto di riferimento per comprendere determinati processi. E di supporto alle forze dell'ordine per alcuni corsi di formazione che facciamo, perché ci teniamo tantissimo alla formazione, perché noi nella Cifit, come tante altre scuole di pensiero, pensiamo che l'ignoranza sia il male più grande da combattere e quindi la formazione è una cosa che deve essere perpetua nel tempo per tutti, soprattutto per gli operatori del settore e per le persone che si vogliono emancipare, anche perché la società di oggi ci impone una crescita un po' a tutti, no? In ogni settore. Quindi adesso parlare della Cifit, di ciò che fa la Cifit sarebbe molto complicato e ci prenderemo tutto alla puntata. Però magari diciamo, accenniamo quali sono le attività principali. Tantissime, andiamo dalla tecnologia a servizio dell'uomo, della difesa, della sicurezza del territorio, a quello che può essere un supporto tecnico per chi ha delle problematiche da risolvere. Ad esempio trattiamo i droni, che è una tecnologia di nuovissima concezione, che può essere usato su migliaia di cambi, da quello dell'applicazione scientifica a quello delle riprese video, come nel vostro caso, ci sono tantissime le argomentazioni. Magari chi è interessato a capire meglio può andare sul nostro sito cifit.it e vi chiedere magari di cosa si tratta, così non ci tratteniamo troppo... E voi vi avvelete anche di tante professionalità all'interno dell'associazione? Sì, perché questa magari è una cosa importante chiarirla. All'interno dell'associazione ci sono diverse persone che hanno un certo bagaglio culturale in materia. Infatti ci sono molte persone che ancora oggi militano nelle forze dell'ordine, nella Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, in tutti i corpi della Polizia. Avvocati, insomma, senza fare più di altre spiegazioni in questo, ci sono operatori del settore. Quindi più di essere un'associazione di scuola di pensiero, è un'associazione di persone che hanno maturato sul territorio un'esperienza forte e sentita. Quindi sanno tecnicamente come affrontare alcune problematiche. Quindi l'associazione, tra i tanti obiettivi, come obiettivo rimane è quello di dare un supporto di formazione anche ad altre associazioni. Ad esempio, l'ultimo convegno che abbiamo fatto, grazie al nostro associato, l'Avvocato Campanile, che spesso ospita il vostro, abbiamo fatto un incontro con l'Ami, Associazione Matrimonista Italiane, con Giannetto Ricassani, dove abbiamo fatto un collubio tra le due associazioni. Questo perché la nostra associazione è più tecnica che filosofica. Cioè più di portare il pensiero, un dibattito sulle argomentazioni, andiamo a incrementare altre associazioni con la parte tecnica, quella magari un po' più carente sul territorio. È stata strutturata, è nata ad Agropoli, perché io, con tutto rispetto per l'Italia, sono molto amante del Sud Italia. Penso che il Sud Italia sia una parte componente fondamentale del mondo, come dicevano ieri Macramano al concerto. Insomma, diciamo che è nata con l'intento di dare un supporto valido ad altre associazioni e alle persone che vogliono accrescere la cultura sulla criminalità e tutti gli fenomeni alle collegate. In quest'ultimo periodo, Giuseppe, il fenomeno della criminalità è particolarmente cresciuto e si avverte sul nostro territorio. Insomma, pochi giorni fa la rapina che ha interessato la gioielleria è ancora prima. Un'altra rapina è stata fatta ad Agropoli, in un locale notturno e in una gioielleria sempre a Capaccio. Quindi, questo fenomeno della criminalità, secondo te, come mai in quest'ultimo periodo si è incrementato? Allora, prima di tutto dobbiamo chiarire un aspetto fondamentale. Sul nostro territorio questi fenomeni sono ultimamente più frequenti perché c'è una saturazione a livello nazionale delle zone in cui la criminalità organizzata, sia la microcriminalità che i grossi fenomeni, Camorra, Dragata e Mafia, ha quasi finito le zone da attingere. Immaginiamo una stalla con tante bucche, una volta appunto le più importanti, come le più grandi città, i centri più grandi, si comincia ad andare anche in quelli periferici. Siccome sul territorio c'è una grossa carenza di tecnologia, perché gli impianti di videosorveglianza probabilmente non è un'accusa verso le amministrazioni e la classe politica, me ne guarderei bene, però probabilmente prima c'è un'attenzione diversa perché non c'erano determinati fenomeni che portavano a questa attenzione di creare dei sistemi di videosorveglianza dediti al controllo. Anche perché un malavitoso, che sia un microdelinquente, un drogato che decide di fare estemporaneamente un furto occasionale o una banda organizzata, quando sa che ci sono degli impianti di videosorveglianza di un certo livello e fatto in un certo modo ci pensa più di una volta. Quindi possono fungere da deterrente? Deterrente psicologico e prevenzione, ma nel caso poi uno decide di perseverare nel loro intento di disegno criminale e quindi fanno questo atto criminoso, ci sono degli strumenti validi per poi rintracciarli e scoprirli perché poi è molto molto più facile. Anche perché ci sono sempre di più questi sistemi di videosorveglianza, forse perché non sono abbastanza sofisticati, quindi io ti parlo magari di quelli all'interno delle abitazioni, vengono smantellati comunque. Hai messo il dito nella piaga, non c'è un disegno di ligge che definisce bene quali sono i parametri tecnici per fare in modo che durante questi fenomeni si possa poi intervenire tempestivamente, ovvero siamo più specifici perché chi ci vede dall'altra parte possa capire bene. Gli impianti di videosorveglianza vengono montati quasi sempre da installatori autorizzati, ma che non conoscono la dinamica poi delle indagini, quindi le tre camere vengono messe in alto, ok? Quindi quando poi l'autorità giudiziaria deve esaminare le immagini, cosa fa? Si presenta nell'attività commerciale, acquisisce le immagini con degli esperti, dei tecnici e le immagini che vengono poi fuori, che devono analizzare gli investigatori, dei vari corpi di polizia intervenuti sul posto, sono limitati a vedere se una persona ha un buon cuoio capelluto o se magari ha l'alopecia. Perché vedono praticamente solo la testa, la parte alta. Sì, certo ci sono degli indizi fondamentali, c'è l'altezza, quante persone sono e da quello si possono basare solo su quello, la carnagione, come sono vestiti, il movimento, per poi poter riconoscere le persone, perché di solito poi sono persone che perseverano questo tipo di tirato anche in altre città. Quindi sono più identificabili rispetto ad altri. Immagina invece avere un primo piano della faccia di una persona, cioè è molto più semplice anche perché ci sono dei sistemi, adesso non sputtieramo i sistemi della polizia giudiziaria, ma con un primo piano è molto più semplice. Quindi magari un primo messaggio che possiamo dare è questo. Il primo messaggio è soprattutto ai tecnici che fanno... I tecnici, giustamente, ti ripeto, i tecnici almeno sul nostro territorio fanno già un buon lavoro, magari, ecco, se si rivolgono alla CIFIT per qualche consiglio tecnico, visto che facciamo questo per me siete da anni tutti quanti, possiamo dare qualche suggerimento a chi ha voglia di accettarlo. Perché poi l'altezza, chi è che dice l'altezza? Ma non sono l'altezza, sono tanti altri strumenti. Noi abbiamo una legge sulla privacy che deve tutelare le riprese che vengono fatte e che non vengono fatte. Ma ci sono anche dei dettagli tecnici, quindi nelle attività commerciali, soprattutto nelle gioellerie, negli uffici postali, nelle banche e in altre attività che sono obiettivi sensibili, sarebbe giusto seguire degli indizi particolari. Questo per dare un grosso deterrente e una grossa mano, anche perché poi, ho fatto un esempio, sul nostro territorio l'altro giorno c'è stata una rapina a mano armata, non so se era a mano armata, non ricordo, c'è stata una rapina dove hanno portato via un certo valore. Se ci fossero stati degli accorgimenti sarebbe stato più semplice l'indagine. identificare. Sarebbero state più veloci le indagini. Certo. Anche se poi di fatto hanno fatto molto velocemente le porte dell'ordine e l'indificata. No, ringraziando Dio, sul territorio abbiamo degli ottimi investigatori nei vari corpi di polizia, soprattutto nell'arma dei carabinieri. Ringraziando Dio abbiamo veramente persone eccellenti. Tu hai accennato così un flash, hai parlato del fatto della privacy, quindi spesso per esempio i comuni, che molti comuni hanno lo stesso capaccio, lo stesso agropoli, spesso è finito nel mirino dei ladri e dei vandali. Quindi in questo caso i sistemi di videoserveglianza, quelli pubblici che vengono messi sulle vie, sulle strade, edifici, le scuole, anche questi devono avere delle determinate caratteristiche, perché dovrebbero essere utilizzati solo esclusivamente per la tutela dei beni patrimoniali, dei beni pubblici, eccetera, eccetera. Cioè spiega bene anche come funziona la fase investigativa, laddove si verifica tipo un atto vandalico, per esempio. Allora, partiamo dal presupposto che quando c'è un disegno criminale compiuto, l'autorità giudiziaria, il PM, il Pubblico Ministero, può acquisire qualsiasi atto e non esiste nella violazione della privacy, perché per legge è giusto che sia così. Per quanto invece proprio la costruzione e l'impianto che viene montato, deve eseguire determinate caratteristiche, ma ci sono anche degli accorgimenti tecnici che consentono di fare, di supportare una motivazione per cui è stato fatto l'impianto, senza violare la privacy delle persone. Cioè che le immagini siano fatte in modo che non violino quelle che sono le leggi garantite dalla legge di tutela. Ma in ogni caso, anche su questo punto ci sarebbe fare un'intera trasmissione, perché purtroppo noi in Italia, non me ne vogliate politici, spesso facciamo delle leggi fatte da persone che sono dei bravi politici, ma stanno dietro la scrivania, non vivono sul territorio, non conoscono le problematiche. Quindi vengono fatte le leggi che sono intelligenti, sono fatte con una cognizione di causa, ma che poi quando devono essere applicate hanno sempre il rovescio della metaglia. sarebbe opportuno invece, magari quando si preparano determinati processi per creare una legge, che siano interpellate anche chi vive sul territorio e queste problematiche le affronta tutti i giorni. Quindi, tra virgolette, lasciamo a pesa un attimo questa cosa. Diciamo che tecnicamente ci sono degli accorgimenti per non violare la legge, ma che possono poi tutelare chi deve poi lavorare. Eventualmente ci sono degli episodi illeciti, in effetti. Esattamente, ma dopo c'è una visorbeglianza viene fatta perché ci sono i fenomeni illeciti. Però diciamo che mi pare di capire da quello che hai detto che l'importanza, l'importante soprattutto è che sia un'ottima tecnologia. Cioè, la tecnologia è importante però laddove sia una tecnologia di un certo livello. Guarda, adesso dico una cosa che non dovrei dire come presidente di un'associazione di tecnologia, ma la dico come tecnico, perché poi nella vita faccio anche questo. È meglio avere le telecamere finte, che fanno semplicemente la deterrenza psicologica, che avere un impianto di videosorveglianza che costa poco e che poi, quando serve veramente ad aiutare l'attività a recuperare il danno che ha avuto, a identificare il malfattore, possa servire fino in fondo. Che avere un impianto che costa poco, io ho speso poco, ho comprato un prodotto di importazione, però poi alla fine, dopo l'ho comprato, c'è il danno della benfra. Potrebbe rivelarsi inutile. È meglio avere un impianto professionale ad alta risoluzione, montato con uno studio della sicurezza, cosa che non viene fatta mai, perché purtroppo la maggior parte delle volte viene fatto un impianto cercando di fare meno danni alla struttura, meno invasivo, cercando di mettere le telecamere più alto possibile, in modo che mettiamo le telecamere in sicurezza. E invece no, le telecamere vanno messe, ci sono delle telecamere protette che sono anti-vandalo e che vanno messe a altezza uomo. Noi dobbiamo vedere chi so, perché se noi vediamo che sono entrate tre gatti, il gatto, la volpe e la fata sulchina sono andate a rubare le caramelle di Pinocchio. Poi non riusciamo a capire chi sono, ma dobbiamo partire dal presupposto che uno c'ha la coda, l'altro c'è l'orecchia, ah, sono il gatto e la volpe, ma poi ci andiamo a riscontrare sul territorio, ma ci sono tanti gatti e la volpe. Quali saranno? Mentre capiamo chi sono, la rifruttiva è scomparsa. Quando abbiamo un primo piano, un'immagine decente, sappiamo dire, è il gatto e la volpe, ma c'era anche la Fatina, l'ho riconosciuta, abbiamo un primo piano della Fatina, andiamo a prendere la Fatina a casa. E parliamo di sicurezza. Sicurezza. Io, anche da Albanella, dove vivo io, ma anche da te, ad Agropoli, al Capaccio, in tutto quanto il comprensorio, e si sono registrati moltissimi casi di furti in abitazione. Come difendersi dai ladri che durante la notte piombano all'interno delle abitazioni, mentre tu dormi? Addirittura ci sono verificati anche casi in cui hanno utilizzato magari degli spray narcotizzanti, per cui tu nemmeno ti rendi conto di quello che sta succedendo. Hai toccato un argomento molto attuale. Allora, chiariamo una cosa fondamentale. Ci sono delle leggende metropolitane su questo gas, ma non sono del tutto leggende. Ci sono alcune bande organizzate dai paesi dell'est che usano alcuni tipi di gas, che sono facilmente dissolubili nell'azoto, che effettivamente narcotizzano le persone. Noi abbiamo fatto diversi incontri, siccome la Cifit è distribuita sul livello nazionale, abbiamo una sede a Milano, un'altra a Roma, insomma in diverse parti d'Italia, abbiamo fatto più incontri di formazione per portare a conoscenza degli installatori per un tipo di corso e alle forze dell'ordine e agli investigatori che esistono delle tecnologie dove questo fenomeno è più latente, più forte, ci sono delle tecnologie di contrasto. In effetti è stato creato un chipset, parliamo di un microcircuito, come quelli che ci sono nei telefoni, molto piccolo, che messo in un apparecchio particolare e con un antifurto particolare sono in grado di rilevare questo gas e quindi di allarmare una serie di numeri telefonici tramite una centralina e di far attivare le luci intorno alla casa, in modo che il malfattore che usa questa tecnologia, questo gas, prima che agisce il gas tu ti accorgi che c'è qualcosa che non va. E se purtroppo sei caduto già nel torpore ci sono le persone che sono... Che dicevano la telefonata e che sanno che quel modo è un caso di intervento, insomma, devono intervenire. Anzi, questo è uno dei pochi sistemi in Italia che riesce a dare la garanzia a chi vuole tutearsi contro questo tipo di fenomeno, anche perché nel sud Italia... E funziona anche con l'irruzione all'interno della casa? Sì, allora è meno... questo fenomeno di cui tu mi hai accennato è meno distribuito, si possa pensare, il contrario, ma è meno distribuito come fenomeno sul territorio del sud che è al nord. Il nord è molto più utilizzato, anche perché le bande dell'est raggiungono più facilmente il nord Italia. Quindi noi lì abbiamo fatto già dei programmi per portare a conoscenza di questa tecnologia. Qui ciò qua abbiamo ancora, insomma, il fenomeno che si sta cominciando a distribuire a macchia di leopardo e quindi ancora non abbiamo implementato tra i nostri corsi... Magari anche non qualcosa di estremamente tecnologico, diamo qualche dritta a chi ci ascolta per evitare l'irruzione dei ladri. Allora, noi come associazione siamo a disposizione sia, ripeto, la nostra associazione è una associazione non profit senza scopo di lucro e che nasce dalla volontà di far emergere soprattutto la legalità. E quindi quando c'è l'esigenza di voler capire ci potete rivolgere tranquillamente tutte le domande via email a info.cfit.it. Noi siamo lieti di darvi delle informazioni soprattutto con questo fenomeno del gas perché vi posso garantire che è una cosa tremenda, determinati di gas ti mettono in condizione di non ricordare nemmeno ciò che è successo, trovi solo la casa a voi e dici ma come vuoi essi? Non mai sono accorto. La difesa migliore a mio avviso... Qualche tecnica magari che la possono fare tutti così una pratica... La più spicciola? La più spicciola. La più spicciola. Scende la luce ma il più grosso deterrente e il più grosso sistema di protezione attualmente mai inventato perché un ladro se vi vuole rubare ci sono dei beni importanti in una villa, in una banca e decidi di entrare trova il sistema soprattutto le bande organizzate perché la tecnologia a pari passo fa la tecnologia sia per la difesa che per l'attacco. Quindi poi andiamo in ciberterrorismo, tramite centrale, tramite IP, se un antifurto è collegato alla rete riusciamo a disattivarlo da fuori con ore di lavoro, poi si riesce. È chiaro, anche loro hanno i loro esperti. Esattamente, anzi purtroppo in Italia i politici non hanno capito una cosa, adesso mi prenderanno sotto il mirino e forse qualcuno cercherà anche di fucilarmi. I politici non hanno capito una cosa fondamentale, bisogna dare più risorse alle forze dell'ordine perché spesso si trovano un muro enorme su quello dell'adeguamento della tecnologia, mentre il crimine organizzato di soldi c'è una disposizione per comprare queste tecnologie. Quindi il primo passo per fare a tutti è l'illuminazione automatica. Se io arrivo avanti casa e si accendono tutte le luci del giardino... Soprattutto se magari Giuseppe è un lato improvvisato perché diciamo lo giro... Girono anche questi, tu pensi che ad Albanella qualche giorno fa sono stati addirittura rubati dei polli e all'interno di un'abitazione è stato svuotato tutto quanto il frigorifero. Questo poi è un altro fenomeno che andrebbe approfondito. C'è il problema che è legato un po' anche a questa crisi e quindi la gente che magari si improvvisa ladro e che entra all'interno delle abitazioni rischiando l'arresto magari per svuotare un frigorifero. Allora Angela, c'è la nostra comprensione umana sicuramente perché il momento particolare, io vedevo l'intervista l'altro giorno di miei associati e parlavano proprio di questo. Il problema fondamentale è capire una cosa, è vero sì che il momento è così drastico che porta alcune persone alla fame, ma è vero da dire anche che non si può giustificare. Assolutamente, ci sono altri metodi per sopravvivere, è chiaro. Io ti posso garantire che c'è una barzelletta che racconto sempre, che quella che è una manifestazione avanti a un comune dei scioperanti che volevano il posto di lavoro, in mezzo a 100 persone è sceso il sindaco e ha detto, ok, tu da domani lavori, e quello si è già fatto, non è il signor sindaco, ma da mezzo a 80 gente ha peghiato proprio a me, cioè della serie, mi ha voluto fare lavorare proprio a me, ed era una manifestazione di scioperanti. Dici, perché dici ciò? Dico ciò perché ci sono alcuni lavori umili che noi italiani non siamo stati educati a voler fare. Le scuole e le università sono piene di persone che hanno voglia di crescere, di imparare, di diventare dei professionisti, ma ci posso garantire che ci sono anche molte persone che sono a parcheggio sociale. Perché è meglio avere un posto fisso, avere un posto con la giacca e cravatta che andare in mezzo alla campagna a fare lavori umili. Però vi posso garantire che c'è bisogno anche di questo, di tornare alla cultura della natura, perché noi stiamo disprezzando ciò che abbiamo. E mentre persone desiderano vivere le cose che abbiamo noi, prodotti top tipici di italiani, noi abbiamo persone che dall'estero vengono a comprare in Italia e noi italiani basterebbe piantare una piantina di pomodoro fuori casa e avere tutta l'estate i pomodori senza di andare a comprare e senza magari andare a rubare. Però purtroppo non lo facciamo, perché non abbiamo questa cultura. Anzi, parlando di cultura, io ne approfitto della trasmissione per lanciare un messaggio a tutti. Parliamo di criminalità, mi hai fatto delle domande, voglio mandare un messaggio che non so se possa essere condiviso da tutti, ma dovremmo fare qualcosa in più, avvicinarci di più alle forze dell'ordine, perché vi posso garantire che la legalità si raggiunge soprattutto con l'aiuto della cittadinanza, della popolazione. Questa è una cosa importantissima. Il fenomeno dell'omertà è un mito, un po' i fenomeni multimediali dell'ultima generazione, Facebook e tutti gli altri, Badu, quando ce ne sono, pubblico in continuazione, di casi in cui chi ha aiutato a collaborare poi ha avuto delle ritorsioni. Non è sempre così, non è vero, anzi, sono piccoli casi sporadici che poi vengono montati mediaticamente. Infatti anche gli stessi esponenti delle forze dell'ordine in più occasioni hanno invitato pubblicamente i cittadini a segnalare. Guarda, io di una cosa sono contento. Altrimenti occorrerebbe un carabinieri per ogni persona, questo non è possibile e quindi è chiaro che ci vuole una collaborazione dei cittadini. Come l'ultima legge sul femminicidio, hanno fatto una legge tecnica per aiutare le donne che purtroppo spesso sono vittime di abusi sia psicologici che fisici, ma hanno creato dei mostri perché nella nuova legge hanno messo l'irrevocabilità della denuncia, quindi una persona ha denunciato del stalking che prima era uno strumento di difesa perché la donna diceva di denuncio, la persona prendeva coscienza di ciò che sta facendo, ritirava la denuncia e non lo faceva mai più perché aveva paura di ciò che avrei potuto subire. Una volta venuto a contatto con le autorità che dicevano, guarda, tu vieni in galera, ti succede questo, questo e quell'altro, la paura li metteva in condizione non perché sono diventati bravi da un giorno all'altro perché non ci credo, però diventava un grosso deterente. Oggi invece si procede d'ufficio, quindi io allora a questo punto ti voglio proprio ammazzare. Quindi penso che ci sia stato un rovescio della medaglia. Un'altra cosa importante è il fatto che la testimonianza possa essere usata come atto provvedore in giudizio, ma io non penso, come hai detto tu due minuti fa, che ci possa essere un carabinire di ogni donna perseguitata, perché vuol dire avere più carabinieri in mezzo alla strada che donne. Certo. E non sarebbe possibile, anche perché siete in maggioranza voi donne sul territorio italiano. A parte quelle, le forze dell'Odine, lo sappiamo benissimo, sono anche carenti. Ma no, anche perché in quel caso si dovrebbero regare sul posto, raccogliere le testimonianze di persone esterne e poi presentarle a chi fa le indagini, al PM. Penso che sia un grosso deterente. Mentre l'unica cosa che a mio avviso sia positiva, appunto, il supporto tecnologico, visto che noi ci interessiamo soprattutto di tecnologia, un braccialetto elettronico, tu mi vuoi fare del male, perché, attenzione, c'è anche il rovescio della metaglia. Dobbiamo dire, è vero che nel 70% sono le donne che subiscono delle alterazioni e delle frustrazioni enorme, sia psicologiche, forme di stalking e di aggressione fisica, ma ci sono anche alcune donne che approfittano di queste cose, vogliono separarsi dal marito, ma si tutelano non legalmente, si danno uno schiaffettino, vanno a fare la deposizione in ospedale, che va subito, e si attiva un meccanismo contro magari una persona che non ha fatto nulla. Anche quella violenza. Mentre il braccialetto elettronico, Angela, scusami se ti interrompo, dice lui è venuto a casa e mi ha picchiato, a casa di mia mamma, io me ne ero andata a casa di mia mamma e è venuto e lì mi ha picchiato. Non c'è problema, controlliamo. Ora, minuto, dato, giorno, e anche a che velocità camminava, si stava a piedi o in macchina. Signora, non c'è mai stato a casa di vostra mamma, si è provata la verità. Quindi il braccialetto elettronico è una grande soluzione per chi persevera in questo tipo di reato. Un'ultima domanda, Giuseppe. Diamo magari, ecco, ti ho parlato di donne, hai parlato di donne che presumibilmente, insomma, sono vittime di violenza, di persecuzioni. Quale potrebbe essere un'arma, tra virgolette, tecnologica, di cui una donna potrebbe usufruire, per esempio, per dimostrare di essere vittima di uno stalker? Perché a volte questo è difficile da dimostrare. Angelo, mi piace perché fai questa domanda sempre fluida, da trasmettere a chi ti guarda dall'altra parte. E apprezzo questa cosa, anzi, infatti, l'altro giorno vedevo l'intervista a Gennaro Verta, che è un nostro collaboratore della Cifit, su cosa fare per difendersi in primis. Beh, come supporto tecnologico esistono degli apparecchietti bellissimi. Esempio pratico. Il lato emotivo di una donna che viene aggredita, la maggior parte delle volte, crea uno stato di ansia eccessivo. Sono stato notato, noi quando ci spaventiamo cominciamo a respirare più affannosamente. Questo perché l'organismo si difende, il cervello produce un ormone, e questo ormone dà informazioni al cuore di girare più veloce, ma non perché è preso da un fenomeno regressivo, ma perché si sta difendendo. Più respirazione, più ossigeno che gira, più prontezza per reagire. E come diceva Gennaro, gli istinti sono un po' diversi. Ci sono alcune persone che si bloccano, perché le relazioni possono essere due. C'è una donna che si blocca, non riesce a... La paralisi totale. La paralisi totale. È quella più frequente. La più frequente. La maggior parte delle donne si bloccano, non riescono né a gridare, né a muoversi, né a scappare. E quindi diventano indifense totalmente. Vabbè, andate dal nostro associato, nella sua palestra, che fa dei corsi bellissimi, imparate a reagire. Ma nel frattempo io cosa faccio? Se mi succedono, ci sono degli apparecchietti, una semplice scatoletta di plastica, che si poggia sul lato, con un laccetto. Tiro il laccetto su un allarme così forte, che attira l'attenzione di tutti. Ora, il maravitoso o la persona con cattiva intenzione, quando si accorge che è stata richiamata l'attenzione su di lui, scappa. Anche se il più cattivo e il più è freddo, scappa. È come il ladro che deve rubare, si accendono le luci, suona l'allarme e un grosso deterrente. Un altro, appunto, è il peperoncino. Che però non è ammesso. No, attenzione, la normativa è stata chiarita. Spieghiamola bene. Una quantità minima di peperoncino sotto i 20 cl è consentita per la difesa. Attenzione, difesa, voglio chiarire questo aspetto legale. Se io uso questo strumento di difesa come offesa, è un reato. Se io vengo aggredito e mi difendo, con questo strumento, si chiama legittima difesa. Certo. Quindi l'acquisto di un peperoncino, peperoncino non ha altri tipi di sostanze perché non te lo contemplate dalla legge, quindi sarebbe un porto abusivo. E dove si acquistano poi questi prodotti? Chiedercelo, vi daremo una serie di siti. Chiedercelo a infocifit.tv vi daremo una serie di informazioni, di siti dove... Sì, ma attenzione, su internet sono spesso propinati dei prodotti che poi non rispettano la legge. Il peperoncino è una sostanza naturale, quindi che non crea dei postumi. È soltanto un fatto momentaneo, ma che ti consegna... Che ti dà la possibilità di scappare però. Perché come diceva Gennaro nell'intervista, il più grosso fenomeno è quello dell'aggressione per strada e quindi hai la possibilità di scappare, non sei lungo chiuso. Tra l'altro se mi trovi un ascensore, mi diceva lui, ma lì è un po' più complicato. Per scappare però devi avere la possibilità fisica di scappare. Lo spray... Ti dà quei pochissimi minuti, ti dà un po' di tempo. Più di dieci minuti per mettere di sicurezza. Ok, quindi lo spray è un grosso fenomeno, ma uno ancora più forte è questo strumentino elettronico, che in America è usatissimo. In Italia se ne trovano pochissimi appunto perché non c'è la conoscenza. Dobbiamo entrare nella cultura che la migliore difesa è quella che ci possiamo fare con le nostre mani. Fondamentale. Va bene Giuseppe, io ti ringrazio. Ringrazio te dell'opportunità di averci fatto fare quattro chiacchiere e sono contento di essere stato con te. Magari se hai bisogno del nostro supporto, quando vuoi, e ti ringrazio. Siamo a tua disposizione. Sicuramente i telespettatori avranno colto tutti questi suggerimenti che gli abbiamo dato. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.